Ok, oggi affrontiamo la sintesi di tutto l'elettromagnetismo, cioè la teoria elettromagnetica fondata su quattro equazioni. Quattro equazioni che sintetizzano tutte le proprietà del campo elettrico e magnetico, ma in realtà fanno molto di più come vedremo tra qualche momento. Nella parte degli esperimenti che abbiamo visto, la maggior parte degli esperimenti che abbiamo visto, specialmente quelli sull'induzione elettromagnetica, sono ideati e realizzati da Michael Faraday. E che ha avuto anche una parte importante, a parte il punto di vista sperimentale, ha avuto un'idea geniale, ha introdotto l'idea di campo, prima non esisteva. L'idea di campo è stato un problema anche per Newton. Una delle cose che ha trattenuto Newton dal pubblicare i suoi risultati sulla gravitazione universale, era A, che a Newton non importava assolutamente niente di quelli che gli altri pensavano di lui, né che gli altri sapessero i suoi risultati, davvero, con un carattere molto difficile. Ma B, non riusciva a risolvere il problema di come mai un oggetto come il Sole impunentasse la Terra a 150 milioni di distanti. Quindi 150 milioni di chilometri di distanti. Perché? Questo succede perché funziona con un tramite della porta e il campo. Il Sole produce un campo gravitazionale e il campo gravitazionale agisce sulla Terra. Ma l'idea di campo, in realtà, non in ambito gravitazionale, ma in ambito, nasce in ambito elettrico. Le cariche elettriche agiscono l'una sull'altra tramite il campo. Un altro campo importante che abbiamo incontrato nel nostro studio è chilomagnetico. Apparentemente, fino a Maxwell e i due, sono completamente diversi. Non è ovvio che cosa deve fare una calamita con delle cariche in moto. Ok? Il primo spunto che dà l'idea di le fismiche e di cui sono legate è l'effetto magnetico delle correnti elettriche liberate da Hörstein. E sull'idea di questo, che è giunto casualmente, Paradei si è messo in mente, mi può dare stimare, insegnanti al contrario. Magari anche un campo magnetico produce un effetto elettrico. E lui ha costruito una serie di circa 800 esperimenti, raccolti nelle sue memorie, dove esplora tutte le proprietà dei campi elettrici e magnetici e le loro interazioni. Ma ahimè, era un autodidatta. Non aveva una solida formazione matematica e culturali in realtà, perché era nato nell'Istengo, ragazzo di strada, ho trovato il lavoro all'università perché era una persona molto curiosa, si era istruito da solo perché lavorava in una legatoria di libri. Attenzione ai libri, a quell'epoca erano tutti iscritti in latino, non esistevano in libri di lei. Buongiorno. Ok? E sulla base di questo amore di dati sperimentali, Marzio, che invece aveva una solidissima formazione matematica, ha lavorato cercando di sintetizzare, di descrivere in modo formale le leggi che regolano a questo tipo di fenomeno. Pensate che, all'epoca di Marzio, parlo della metà del XIX secolo, l'elettromagnetismo era considerato una cosa così strana e peculiare che non si insegnava neanche l'università. Era una cosa di strana, come continuano a guardare un po' con sospetto, rispetto di campo difficile. Chi ha messo in ordine in questo tempo è stato Marzio. La prima versione del suo lavoro aveva circa 20 equazioni, poi sono state ridotte a 4, che insieme a quella di Lorent, F uguale a Q per E più QB per B, descrivano tutta l'interazione elettromagnetica. Quindi tutta la nostra tecnologia elettrotecnica è basata su questa. Più, come vedremo a breve, anche la tecnologia delle telecomunicazioni. Perché sulla base di quell'equazione Marx l'ha previsto l'esistenza delle onde elettromagnetiche, cioè di perturbazioni nel campo elettrico e magnetico che si propagano nello spazio. Quando un fonelmo, non so se lo conoscete, uno dei più grossi nomi della termodinamica, chiede un suo studente, dopo aver detto ovvio il Maxwell, di verificare se esistevano queste onde. Lo studente si chiamava Frank Herz. La prima volta che gliel'ha chiesto, adesso ha detto, ma non esiste una tecnologia che è sufficiente a fare in questo conto, cioè a rivelare le onde. Dopo diversi anni, invece, i instrumenti elettrici erano sufficientemente precisi e sensibili per poterlo fare e le onde elettromagnetiche furono rivelate da Frank Herz in laboratorio. Ma quando gli chiesero che importanza ha questa scoperta, Herz disse, boh, non lo so, è solamente la teoria di Maxwell che funziona. Quindi anche in quel caso, chi era il principale protagonista di questa scoperta sensazionale, in realtà, non si rendeva neanche conto delle applicazioni possibili di quelle che potevano influenzare nel futuro. E così succede spesso nella ricerca scientifica. Tante volte, una scoperta apparentemente marginale poi in realtà ha un enorme sviluppo futuro. Perché? Perché magari altre persone le vengono a contatto e vedono applicazioni che lo stesso scopritore non vede. quindi iniziamo quindi iniziamo il nostro percorso che conclude, se volete, il percorso del vetro magnetismo per aprire un altro ancora più fondamentale, come vedremo a breve, che è quello della relatività. Le due cose sono molto agganciate. Le questioni di Maxwell sono quattro. Due relative al flusso, uno del campo elettrico, uno del campo magnetico, e due relative alla circuitazione. Cominciamo col campo elettrico. e la prima equazione che riguarda il flusso del campo fa appello al concetto di flusso, che abbiamo già visto a suo tempo, ma è bene ripeterlo. Considero il flusso indicato da questa lettera Φ del campo elettrico E attraverso una superficie di area A come il prodotto scalare tra il vettore campo elettrico nei punti che appartengono alla superficie per un vettore che rappresenta l'area della superficie l'area A diretto come il lungo la normale la retta perpendicolare alla superficie stessa. Ok? Quindi nel flusso contano sia il campo sia l'area della superficie ma anche come sono orientati. Se la superficie avesse un profilo allineato a linea di campo il flusso sarebbe nullo. perché idealmente immaginate se ho un campo che sta lungo la linea del lungo il profilo della superficie le linee di campo non entrano e non escono da questa superficie quindi il flusso è zero. Quindi conta ripeto il campo l'estensione della superficie ma anche l'angolo tra il vettore campo elettrico e il vettore perpendicolare al piano su cui si trova la superficie. Se la superficie è chiusa questo ripeto si applica a qualsiasi superficie in particolare nel caso di una superficie chiusa detta anche superficie gaussiana allora vale questa proprietà fondamentale il flusso del campo elettrico attraverso la superficie S chiusa è esprimibile come la somma algebrica di tutte le cariche elettriche interne indipendentemente da dove sono basta che siano dentro la superficie diviso y0 costante di elettrica del vuoto yr costante di elettrica nel mezzo se mi trovo nel mezzo se sono nel vuoto c'è solo yr perché yr è 1 se sono y0 ok un altro modo attenzione per indicare il flusso è questo ok sulla superficie chiusa è un integrale di E scalare di S di S è l'elemento di area analogo a questo ecco diceva qui avevamo A ok è un vettore che ha come intensità l'estensione della superficie ed è diretto perpendicolarmente alla superficie stessa lungo la normale verso l'esterno per questa ragione il flusso quando è uscente è positivo quando è entrante è negativo perché un flusso uscente ha un coseno di alfa uguale a 1 e il flusso entrante ha un coseno di alfa negativo ok perché c'è bisogno dimmi perfetto stavo proprio per dire perché c'è bisogno di un integrale perché mentre in questo caso particolarmente semplice presumo cioè assumo anzi meglio la figura che è stata fatta assumendo che il campo elettrico fosse lo stesso in tutti i punti della superficie ma questo in generale non è vero se io prendo una superficie come questa qui quella interna è una circonferenza e su quella il campo elettrico è lo stesso dappertutto ma su quella esterna il campo elettrico può essere diverso punto per punto allora cosa faccio normalmente si assume si calcolano delle grandezze infinitesime di flusso cioè prendete per esempio il punto qua sopra non so se vedete ecco se siamo in questo punto prendono una proporzione della superficie S2 talmente piccola che posso approssimarla a un piano ok a un quadratino un rettangolino e se è sufficientemente piccolo il campo elettrico all'interno di quella superficie cambierà molto poco per cui posso calcolare il flusso infinitesimo che è il campo elettrico su quel punto per il vettore area uscente dalla superficie in quel punto lì ok e poi sommo tutti questi contributi infinitesimi al flusso e questa S allungata sta proprio per dire che questa è una somma una somma di infiniti termini infinitesimi estesa a tutta la superficie chiusa ok qualche volta si mette anche un circoletto qui un tondino per dimostrare che guardarsi che la superficie è chiusa perché se la superficie non è chiusa il termine di Gauss non funziona ok ed è un integrale definito in due dimensioni cioè il dominio di integrazione è una superficie questo è un po' quindi si chiede uno sforzo di immaginazione per adesso avete sicuramente trattato o state trattando l'integrale in una dimensione dove cioè la variabile integrazione è una qui ce ne sono due se integrassi in un piano cartesiano avrei un dx per dy con una funzione di x e dy per esempio ok e questo è uno strumento matematico che è la definizione esatta di flusso quello che si fa con la nel caso ad esempio di superficie semplice è una versione semplificata di questo perché perché in quel caso il campo sulla superficie sferica ha sempre lo stesso intensità se la carica è puntiforme unica al centro della sfera e quindi è facile fare quel prodotto più in generale devo integrare infiniti termini infinitesimi ok è tutto chiaro fin qui perfetto esiste un'analoga equazione per il campo magnetico a suo tempo su questo abbiamo glissato un pochetto sono andato un po' veloce adesso è il momento di puntualizzare molto bene torniamo un attimo al campo elettrico se ricordate bene nel caso semplice immaginate di lavorare con la sfera s1 se io ho una carica puntiforme al centro della sfera il valore del flusso è dovuto al fatto che moltiplico il campo per la superficie ma il campo va come 1 su r quadro la superficie è proporzionale ad r quadro quindi r va via quindi perdo cioè si cancella la informazione su quanto è grande la sfera e questa è una delle proprietà fondamentali del teorema del flusso cioè il flusso è lo stesso per qualsiasi superficie non dipende solo da quanto grande è la sfera ma non dipende neanche dal fatto che sia una sfera o no in realtà ok e quindi questo è legato a che cosa a come il campo è legato alla sua sorgente il campo elettrico di una carica puntiforme è il valore della carica diviso il quadrato della distanza dalla carica per le costanze che dipendono dall'interno di misura eccetera eccetera se il campo elettrico fosse legato a una potenza diversa il teorema del flusso non sarebbe vero supponete che il campo andasse come 1 su r alla terza ok a quel punto allora il flusso non è più indipendente dalla superficie perché se va come 1 su r alla terza e moltiplico campo per superficie ho un flusso che va come 1 su r quindi qui le cose essenziali cioè la natura profonda del teorema di gauss è legata a 1 il legame che c'è tra il campo e la sua origine cioè è la carica elettrica che genera che produce il campo 2 l'intensità del campo decresce come l'inverso del quadrato della distanza queste due cose combinate insieme producono il teorema di gauss per il campo elettrico per il campo magnetico la situazione è abbastanza diversa perché beh calcoliamo il flusso nello stesso modo qui magari è più chiaro cosa intendevamo prima la domanda perché devo calcolare un integrale in due dimensioni beh qui è abbastanza evidente che se ha un'area piccola come in questo caso qui è sufficiente moltiplicare il campo per aree sono a posto ma se l'area è estesa in punti diversi il campo può essere diverso e quindi suddivido l'area in tante piccole porzioni che posso approssimare a un piano ma soprattutto sufficientemente piccole in modo tale che il campo B all'interno della superficie in questione delta SI sia grosso modo uniforme costante e quindi ha senso moltiplicare campo per superficie altrimenti quale valore del campo uso se ce ne sono infiniti e poi sommo ogni piccolo contributo e ottengo il flusso del campo magnetico che avete indicato qua sotto vi ricordate sicuramente che una delle prime proprietà che abbiamo visto del campo magnetico era il fatto che non riesco a isolare un monopolo magnetico sia una calamita polo nord polo sud eccetera e la taglio a metà ottengo altre due calamite non ottengo solo un polo nord e solo un polo sud ottengo sempre il dipolo magnetico se possiamo chiamarlo così finché non arriva proprio a livello microscopico e se osserviamo una delle tecniche più semplici per osservare le linee di campo è proprio quello di usare la limatura di ferro messa magari su un foglio sotto mette o su un vetro sotto ci mettete la calamita e vedete che la limatura di ferro si dispone lungo linee di campo e sono linee di campo che continuano in realtà anche all'interno della calamita come possiamo vedere nel caso dell'elettromagnete qui abbiamo un solenoide che si comporta come un elettromagnete cioè produce un campo magnetico per effetto della corrente elettrica qual è la conseguenza di questo? la conseguenza di questo è che le linee di forza del campo magnetico sono chiuse quindi qualunque superficie io consideri qualunque superficie chiusa tante linee entrano tante linee escono non ho come nel caso del campo elettrico la carica isolata da cui si dipartono le linee di forza elettriche per cui se io prendo una superficie che circonda questa carica ho un netto di linee di campo che escono dalla superficie se non ho un monopolo magnetico cioè se non riesco a isolare una carica magnetica chiamiamola così non avrò l'analogo per il campo magnetico qualunque linee di forza io consideri è una linea chiusa quindi su ogni superficie chiusa tante linee magnetiche entrano quante ne escono perché? perché dentro quella superficie non potrò isolare nessuna carica magnetica perché questo non lo posso fare data la natura del magnetismo per cui in generale il flusso del campo magnetico attraverso una superficie chiusa è sempre zero sarà diverso da zero solamente nel caso in cui io riesco riesco o riuscisse a isolare un monopolo magnetico ma esistono questi monopoli magnetici in linea di principio sì la moderna teoria della nasta dell'evoluzione dell'universo unita a quella dello spazio-tempo dice che alla nasta dell'universo potrebbero esserci stati dei delle micro come dire dei difetti ecco nella trama dello spazio-tempo che si comportano come dei monopoli magnetici però l'espansione dell'universo li ha talmente diluiti che nessuno riesce a osservarli c'è un problema legato alla struttura della geometrica dello spazio-tempo è un punto come dire un polo un punto problematico tra virgolette finché non li incontriamo siamo autorizzati ad assumere dato che l'esperienza ci dimostra che è così che il flusso del campo magnetico attraverso qualsiasi superficie chiusa è zero qual è la principale differenza tra la legge di flusso elettrica e quella magnetica la principale differenza è legata al fatto che mentre nel caso del campo elettrico posso avere sorgenti di campo cioè dalle cariche elettriche si dipartono linee di campo fate l'esempio della carica puntiforme tutte nello stesso verso cioè tutte uscenti o tutte entranti questo non succede per il campo magnetico non avendo una torniamo un attimo indietro ecco non avendo se questa è un elettrocalamita questa zona la zona di destra si comporta come il polo nord ok qui le linee di forza all'esterno escono ma qui entrano all'interno quindi anche se considerassi questa superficie da qui escono ma qui entrano quindi il totale è zero essendo tutte le linee di forza chiuse non ha un polo magnetico da cui le linee di forza si dipartano tutte in uscita o tutte in entrata quindi questa è legata alla natura peculiare del campo magnetico che fa sì che non esistano sorgenti di campo non esistono cariche magnetiche e questa è la causa immediata del fatto che il flusso del campo magnetico di qualunque campo magnetico attraverso una superficie chiusa è zero attenzione il fatto che la superficie sia chiusa è essenziale se io qui mettessi un quadratino che è un rettangolo è chiaro che il flusso non è nullo il flusso è nullo solo se la superficie è chiusa attenzione questo questo potrebbe essere una domanda se considero la superficie del campo magnetico attraverso una superficie trovo sempre zero la risposta no trovo zero solo se la superficie è chiusa nella figura di prima questa qui ecco questo è un esempio dove il flusso attraverso l'area non è zero perché? perché questa area non è chiusa è una una parte di piano attenzione alle parole ok ah qui c'è poi un'altra insomma ve lo metterò il link alla quanto tempo abbiamo insomma non tanto metterò il link a questo filmato che illustra molto bene quello che abbiamo detto fino ad adesso passiamo alle altre due equazioni le altre due riguardano fino ad adesso abbiamo parlato del flusso le altre due riguardano la circuitazione dei campi che ne dà un'altra caratteristica fondamentale la prima è quella richiama l'induzione elettromagnetica di Faraday Neumann Lenz la forza elettromotrice indotta che per definizione è il lavoro svolto per spostare una carica diviso la carica stessa ok il lavoro per unità di carica quando collego il circuito alla batteria la batteria svolge il lavoro per far muovere le cariche lungo il circuito il lavoro svolto dalla batteria fratto diviso la carica che si sposta quindi il lavoro per unità di carica prende il nome di forza elettromotrice e il lavoro siccome è per spostare la carica mi serve una forza elettrica allora sarà forza elettrica per spostamento e quindi dividendo forza diviso carica ho il campo elettrico il campo elettrico posso cioè scusate la forza elettromotrice posso immaginarla come il prodotto scalare tra il campo e lo spostamento se il campo cambia nel corso dello spostamento allora è necessario che usi delle grandezze infinitesime questo dl in realtà è un spostamento infinitesimo che sta a indicare il fatto che se durante il percorso il campo elettrico cambia come avevamo fatto prima con il flusso con la superficie allora assumo frammento il percorso in tanti piccoli tratti in modo tale che nel corso del spostamento dl il campo elettrico non cambi più che tanto quindi posso assumere questa forma vi ricordo ancora che la definizione di lavoro di una forza qual è il lavoro di una forza è prodotto scalare tra forza e spostamento sì solo se la forza è costante se la forza non è costante devo usare i differenziali prendo la forza moltiplico scalamento per uno spostamento infinitesimo un differenziale e poi eventualmente integro se voglio trovare il lavoro completo ok abbiamo visto appunto che se legge di farla dei Neumann Lenz se ho un circuito metallico ok che ha una determinata estensione e attraverso la superficie di cui questo circuito è un bordo attraverso questa superficie il flusso magnetico cambia all'interno del mio circuito si manifesta una corrente cioè ho una forza elettromotrice le cariche si mettono in moto d'accordo? ma questo si manifesta anche cioè il campo lì c'è anche se io questo vi chiedo un altro sforzo di immaginazione anche se io questo circuito lo tolgo nello spazio dove ho punti che racchiudono superfici attraverso le quali cambia il campo magnetico lì ho campo elettrico legato al fatto che il campo magnetico e il flusso del campo magnetico in quella regione cambia nel tempo la grandezza che manifesta che descrive meglio questo è l'integrale di linea cioè il prodotto scalare tra campo elettrico e percorso di L esteso ha tutto un percorso chiuso per questo qui c'è il tondino dovevo metterlo anche in quella del superfice quindi posso pensare alla forza elettromotrice cioè che cosa fa muovere gli elettroni o le cariche meglio all'interno del mio circuito dove ho forza elettromotrice indotta come un campo elettrico indotto non ci sono qui cariche ferme che producono questo campo elettrico questo campo elettrico è prodotto solo dalla variazione di campo magnetico variazione nel tempo in particolare la variazione del flusso del campo magnetico per cui la forza elettromotrice cioè la circuitazione del campo elettrico lungo un percorso chiuso è pari a il segno meno famosa dell'edgetilenza all'opposto della variazione temporale quindi della derivata nel tempo del flusso del campo magnetico attraverso la superficie a attenzione a è qualunque superficie che abbia il percorso di integrazione come bordo questo è fondamentale una scelta semplice sarebbe prendere per esempio il cerchio che ha questo percorso come bordo come circonferenza in realtà posso prendere qualsiasi superficie che abbia questo come bordo così come nel teorema del flusso posso prendere una superficie chiusa ma in realtà posso prendere una sfera un elisoide un qualsiasi cosa basta che sia chiusa e che contenga quelle cariche qui nella forza elettromotrice cosa faccio faccio il lavoro della forza elettrica lungo un percorso chiuso questo percorso chiuso è il bordo della superficie attraverso la quale calcolo il flusso le due cose sono intimamente legate se no l'equazione non funziona ok il risultato è lo stesso anche se a qui se cerco il cerchio sarà pi greco r la seconda della valore dell'area ma posso prendere un'area infinitamente più grande basta che abbia questo percorso come bordo è facile vederlo perché perché se ha questo come bordo qualsiasi superficie che abbia questo come confine e viene attraversata esattamente dalle stesse linee di plus vicine o lontane che siano mi serverebbe un altro disegno per mostrarvelo ma insomma spero che siate intuirlo ok questa equazione risponde alla domanda che si era posto Maxwell ok oeste dice che se ha una corrente elettrica questa produce un campo magnetico abbiamo visto l'esperimento a suo tempo della bussola che viene deflessa quando passa corrente vicino alla bussola farà dei sex che ha chiesto ma funziona anche il contrario cioè posso con un campo magnetico produrre un effetto elettrico la risposta è sì ogni volta che ho un percorso chiuso attraverso il quale il flusso magnetico cambia attenzione non è sufficiente avere un campo magnetico il campo magnetico deve cambiare allora se il flusso cambia produco un effetto elettrico cioè le cariche si comportano come se lì ci fosse un campo elettrico un campo elettrico indotto d'accordo? e quindi siccome le cariche si spostano quindi sono messe in circolo e quindi producono corrente indotta solo se c'è un campo che le spinge d'accordo? così come a suo tempo quando abbiamo parlato di campo elettrico abbiamo detto beh per esplorare il campo elettrico cosa faccio? metto una carica in un punto e lì misuro la forza così posso mappare il campo elettrico qui è uguale mettiamo un circuito in diverse posizioni nello spazio misuriamo la corrente e vediamo la forza elettrico indotta ma questa esiste ancora prima che io ci metta il circuito se in quella regione di spazio c'è un campo magnetico variabile lì ho anche un campo elettrico variabile che quando ci metto il mio anello metallico mette in moto le cariche ma in realtà il campo elettrico c'è ancora prima questo è un punto importante anche qui vi consiglio di vedere questo video dove viene rassuto molto bene quello che abbiamo detto passiamo all'ultima equazione di Maxwell ce la facciamo sì che è quella relativa alla circuitazione del campo magnetico legge di Ampere la circuitazione del campo elettrico abbiamo visto è contenuta nella legge di Fara di Neumann-Lenz qui passiamo all'analogo per il campo elettrico e per il campo magnetico a suo tempo abbiamo visto che se ho un figlio percorso da corrente linee di forza del campo magnetico sono circonferenze che hanno che stanno su un piano perpendicolare al filo e sono circonferenze concentriche con il filo stesso e sono orientate con la famosa regola della mano destra va bene d'accordo quindi se faccio la circuitazione del campo magnetico B lungo una circonferenza ho un calcolo facile perché perché a quel punto lì B è lo stesso lungo tutti i punti della circonferenza perché è inversamente proporzionale ad R e quello che ottengo è Mi0 prima abilità magnetica del vuoto se sono nel vuoto per la famosa IC la corrente concatenata attenzione questa corrente questa IC è una corrente dovuta a cariche fisicamente in moto una corrente di conduzione si dice ok che caratteristiche deve avere beh considero corrente concatenata tutte quelle correnti nel cui percorso perfora la superficie che ha il circuito dove faccio la circuitazione come bordo immaginate un cerchio che abbia questa linea di forza come circonferenza se la corrente I perfora o attraversa questa superficie allora la considero concatenata al circuito e la conto nella circuitazione di b se ho un analogo filo ma fuori di questa superficie quello non viene contato non entra in questo in questo integrale non è una corrente concatenata ok questo l'uomo già visto a suo tempo non dovrebbe creare di problemi è tutto chiaro qual è il problema il problema si pone quando consideriamo una situazione di questo tipo e qui entra in gioco il genio di Maxwell immaginate di caricare un condensatore abbiamo i due piatti carichi questo qui e questo sotto arriva la corrente lungo questo filo quindi che porta carica su questo piatto per induzione si carica anche il piatto opposto e immaginiamo di calcolare la circuitazione di b lungo questo percorso S1 il percorso C che è il bordo della superficie S1 quindi sul problema la corrente I perfora o attraversa la superficie S1 quindi è concatenata al circuito per cui vale mi zero C I C corrente concatenata o corrente di condizione se preferita ma abbiamo appena detto che quella quell'integrale di linea questo qui è fatto lungo un percorso chiuso d'accordo e la corrente concatenata si attraversa non solo questa superficie ma qualunque superficie che abbia il percorso di integrazione come bordo quindi anche questa S2 ma attraverso S2 se S2 per esempio passa nella zona tra i due piatti del condensatore non c'è nessuna elettronica che attraversa quella corrente non c'è corrente di condizione tra i due piatti del condensatore non passa nessuna carica quindi in quel caso la corrente concatenata è zero e questo è un bel problema questo cosa significa? Significa che la legge di Ampere va corretta non è generale gli manca un pezzo questa è l'intuizione chiave di Maxwell perché? perché ripeto la legge di Ampere applicata alla carica di un condensatore dà due situazioni dà un paradosso conduce a conclusioni opposte entrambe vere se utilizzo ripeto la superficie S1 quindi il cerchio che ha superficie che ha C come bordo allora la corrente concatenata è quella che sta caricando il condensatore non c'è problema trovo Mi0 i C ma se uso lo stesso bordo lo stesso percorso di integrazione lungo cui faccio la circuitazione di B ma considero concatenate tutte le correnti che performano attraverso una superficie che è questa qui in rosa S2 lì la corrente è zero perché questa superficie non viene attraversata ripeto da nessuna carica perché all'interno del condensatore non c'è spostamento di carica uguale se ci fosse come si risolve il problema il problema si risolve introducendo un altro termine come lo troviamo facciamo un passo indietro la dipendenza della carica sul piatto del condensatore nel tempo è legata a questa relazione la carica che arriva lungo il conduttore carica il condensatore quindi la rapidità con cui cambia la carica sul piatto è uguale alla corrente di condizione nessun problema definizione di corrente elettrica il campo elettrico all'interno del condensatore abbiamo visto a suo tempo è la densità di carica su ciascuno dei due piatti visto che hanno cariche opposte diviso epsilon zero quindi è l'intera carica sul condensatore diviso l'area di ciascun piatto diviso epsilon zero riuscite a vedere bene ok quindi la carica su ciascun piatto del condensatore posso esprimerla come epsilon zero l'area del disco di cui è trasformato il condensatore per il campo elettrico che è un campo elettrico omogeneo è dovunque lo stesso ma area per campo è il flusso di E quindi la carica sul piatto del condensatore posso considerarla come epsilon zero per il flusso del campo elettrico E all'interno del condensatore moltiplicato per l'area del condensatore stesso ok questo adesso posso metterlo al posto della Q quando scrivo che la corrente I è uguale di Q su di T allora posso anche scrivere che la corrente è uguale alla derivata nel tempo di epsilon zero per il flusso del campo elettrico attraverso l'area A e questa è la dimensione di una corrente per cui nella superficie S1 ho la corrente di conduzione attraverso la superficie S2 non ho una corrente di conduzione ma ho un qualcosa che si comporta come una corrente ma in realtà è legato al fatto che il flusso del campo elettrico attraverso quella superficie attraverso quella sezione del condensatore cambia nel tempo e perché cambia nel tempo cambia nel tempo perché la corrente di conduzione porta carica sul piatto la carica sul piatto del condensatore cambia e quindi il campo elettrico cambia e quindi cambia il flusso e di fatto le due correnti si scambiano di ruolo se possiamo dire così attraverso la superficie S1 la corrente concatenata è una corrente fisica una corrente di conduzione una corrente fisica in termini inappropriati una corrente materiale concreta dove sono cariche fisicamente in spostamento attraverso S2 non è una corrente di conduzione ma una corrente che è legata in realtà cioè ho una grandezza fisica che si comporta come una corrente ma non è una corrente di conduzione è una corrente legata al fatto che ho un campo elettrico variabile nel tempo ok la variazione di questo flusso la variazione temporale di questo flusso si comporta come una corrente Maxwell è chiamata corrente di spostamento e questo termine è quello che mi serve per bilanciare per completare la legge di ampere che in generale quindi vedrà due termini che giocano il ruolo di corrente uno legato al moto delle cariche il moto reale concreto delle cariche IC corrente di conduzione e poi avrò una IS che è una corrente di spostamento cioè legata al fatto che nella regione in cui io sto calcolando la circuitazione del campo magnetico B potrei avere anche un campo elettrico variabile nel tempo e quindi in generale la circuitazione di B sarà dovuta a due contributi potrebbe essere generata da una corrente di sposta di conduzione che carica in moto e quindi a questo termine Imi0 IC IC sta per corrente di conduzione concatenata al circuito oppure e anche potrebbe essere prodotta dal fatto che nella regione dove calcolo la circuitazione di B ho un campo elettrico variabile nel tempo che produce un flusso variabile quindi quella che chiamo una corrente di spostamento che non è prodotta da cariche in moto ma l'effetto di un campo elettrico variabile nel tempo è simile cioè mima se volete riproduce l'effetto di una corrente di conduzione anche se in realtà questo termine non sta a indicare che ci sono cariche in movimento ma bensì un campo elettrico variabile nel tempo questo elemento questo termine completa l'equazione di ampere e prende il nome di di ampere generalizzata e completa le quattro equazioni di Maxwell la prima è legata al flusso del campo elettrico la seconda è il flusso del campo magnetico che è zero sempre la terza ha la circuitazione del campo elettrico che è uguale all'opposto della versione del flusso del campo magnetico l'equazione di fare nel manlenz e infine l'ultima completata da Maxwell la legge di ampere maxwell o legge di ampere generalizzata relativa alla circuitazione del campo magnetico queste quattro equazioni qui presentate in forma integrale in realtà la loro forma che si utilizza nella ricerca è una forma differenziale ma insomma il principio è lo stesso descrivono tutte ripeto tutte le proprietà del campo elettrico e magnetico non solo ma hanno un effetto cruciale perché mostrano che i due campi sono legati l'uno all'altro queste equazioni coinvolgono entrambi li mescolano specialmente se lavoro nel vuoto nel vuoto dove erano cariche dove erano correnti le due equazioni mostrano una notevole simmetria tra i due campi elettrico e magnetico e suggeriscono hanno scelto a max l'idea che l'interazione elettrica e l'interazione magnetica sono in realtà due aspetti di uno solo interazione di un solo campo il campo elettromagnetico la campagna è suonata per oggi devo fermarmi qua continueremo la prossima volta